Rieccoci tornati con un'altra recensione dedicata agli impianti sportivi. Questa settimana sarà la volta dell'Italo Ferrando, terreno di gioco di una società con grandi progetti e obiettivi ambiziosi, la Genova Calcio. Come potete vedere è in nato il restyling del campo di gioco. Noi di dire tantissimo siamo passati per vedere come stanno andando i lavori e direi che procedono bene. L'impianto sportivo si trova nel quartiere di Cornigliano. Qui giocano e si allenano via dell'acciaio, la SD Campi, la Genova Calcio, Corniglianese e la neonata Rabona Coronata. Che è successo? Siamo quasi a punto, però stiamo aspettando l'erba. Quando arrivano con i camion la mettono. E le panchine? Le panchine le mettono, quando arriva l'erba mettono panchine, mettono le porte anche. Ci sono le porte da mettere, da montare. Saranno comode? Credo che porteranno delle panchine a compagni, almeno per una squadra di eccellenza che rappresenta la Serie A dei dilettanti. Ci voglio delle panchine come deve essere. Torneremo e verificheremo. Bene, bene. Le panchine non so se le vogliono mettere qua o le mettono di là. Quando arrivano vediamo. Come detto, il campo è in fase di restauro e tra poco aprirà di nuovo le porte al pubblico. Il Manta Arboso sarà uno dei migliori di categoria visto il rimodernamento. Credo non ci sia sensazione migliore per un calciatore. Ovviamente io sono interessato però alle panchine. Ho una grande aspettativa. Inutile dire che sono sedute comode, con sederi riscaldati per l'inverno, però forse potrei non ritrovare nella realtà. Sono certo che però non saranno male. Ho fiducia nella società. Le temperature sono tornate rigide ragazzi e mi permetto di dare un consiglio ai panchinari di lungo corso come me. Copritevi già da novembre e portatemi una bella copertina di pile da condividere con i compagni. Uomo avvisato, mezzo salvato. Concludo con questo cielo sul campo sportivo dedicato a Italo Ferrando. Lui era un grande personaggio del calcio ligure, che oltre ad aver ricoperto il ruolo di medico nella nazionale, è anche stato presidente del Comitato Regionale della Liguria e della Federcalcio.